RBR Sporting Academy è un corso di formazione che nasce da un caso studio che fondamentalmente è proprio il progetto Rinascita Baschietrimini. L'obiettivo è quello di formare ragazzi anche che sono laureandi o laureati e soprattutto anche addetti ai lavori delle società in varie declinazioni. L'obiettivo principale è quello di formarli sulla gestione totale della società sportiva. Noi avremo corsi sia di marketing, di operazioni di marketing, sia di come si crea un brand sportivo, avremo corsi di diritto sportivo, avremo corsi di social media manager, avremo corsi di storytelling, quindi svarierà un po' in tutto il mondo della gestione delle società sportive e del management. Per noi il rapporto con RBR è stato un rapporto, è un rapporto favoloso e oserei dire che è un rapporto di amicizia operativa e quando si è amici si mette in comune tutto il meglio che si ha e allo stesso tempo si è in azione, si è in movimento. Questo progetto nasce da queste due parole, amicizia operativa. Cosa possiamo dare noi a questo progetto? La nostra esperienza, l'esperienza di essere un main sponsor di una società, RBR, che ha delle caratteristiche valoriari importantissime. La collaborazione nostra è stata quella di appunto sostenere questa iniziativa, questo Sport Academy, raccontando quella che è proprio l'esperienza di essere main sponsor, di una appunto società molto importante.